Buongiorno, vi presento la nuova asta braccetto per tetto trifola bianca. Questa asta permette di tenere a posizione aperta il tetto nelle fasi di pulizia. E quando andiamo a richiudere il tetto, l'apposito gancio di fissaggio blocca il tetto in modo che anche in presenza di forte vento il tetto non si apra. Comodo, rapido, semplice ed efficace. La nuova asta braccetto per tetto, lucce trifola bianca. Grazie.